Ciao Angela, ciao Giulio, buongiorno, ma un bronzo, un bronzo, madonna, un buongiornissimo ai nostri carissimi ascoltatori di radioterapia, ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene, beh, oh, ve lo meritate, un buongiorno un po' più attento, ve lo meritate, dai, siete nostri affezionati ascoltatori, quindi vi meritate tutti i riguardi, eh, Giulio, Angela, abbiamo qualcosa da ridire? No, dai, spero di no. Ragazzi, bentornati in una nuova puntata della Vendita con Simone, io sono Simone Merlonetti, sono il vostro host ufficiale di fiducia, per l'appunto, che insieme, no, in una sorta di viaggio alla Piero Angela maniera, all'Alberto Angela, sempre maniera la Super Quark, cerchiamo di viaggiare all'interno del mondo della vendita con la nostra torcia in mano per scoprire tutti quelli che sono i dettagli di questo mondo, capirne le difficoltà, i timori, le titubanze e risolverle per il meglio. Quindi siamo qui per una grande opera umanitaria e professionale. Allora, ragazzi, oggi puntata un po' chicchina, nel senso classica puntata delle riflessioni. Ora, ragazzi, domanda con cui mi piacerebbe, diciamo, argomentare la puntata di oggi. Ma secondo voi, il look del venditore, no? Parliamo sempre, no, di una società forse anche troppo superficiale, attenta troppo all'immagine, dovremmo pensare un po' più alla nostra interezza, alla nostra internezza, ecco, più che interezza. Ma secondo voi, il look del venditore, in una trattativa, è importante, consci di vivere in un'epoca così attenta da quel punto di vista? Bene, piccolo rullo di tamburi, Giulio, magari se ci dai un supporto, e beh, ragazzi, la mia risposta non è del... non so se vi farà felici. Ma secondo me, sì, assolutamente, anzi, vi dirò di più, è una parte vitale, ragazzi, della trattativa. Ma prima di arrabbiarvi, ragazzi, fatemi spiegare il concetto. Allora, dobbiamo partire da un presupposto che il mondo della vendita è fatto di persone. Le persone di base sono persone... sì, vabbè, le persone sono persone bellissime, cioè, proprio, mettetelo citato nei libri insieme ad Oscar Wilde. No, volevo dire che le persone sono esseri umani. E l'essere umano, per quanto abbia sviluppato una, beh, una grande razionalità e un grande intelletto, comunque rimane, anche lui, comunque coinvolto in tante relazioni istintive. Per cui siamo comunque animali, nel senso buono del termine, perché abbiamo comunque tutta una serie di percezioni di istintività e di emozioni. Quindi per noi l'approccio istintivo è un modo, comunque, che non ci toglierà mai nessuno, perché ci permette sempre di dare una lettura dell'ignoto, che comunque ci dà sempre un minimo di attenzione. Quindi, partiamo da questo presupposto che, qualsiasi discorso si faccia, un po' di percezione iniziale, quella istintività di una lettura, di un primo approccio, di una prima impressione, è una cosa immancabile. Se poi, nel calderone della teoria, ci mettiamo il fatto che il mondo della vendita è un mondo contraddistinto dalle percezioni, nella vendita non abbiamo il tempo di costruire delle relazioni eterne, solide con le persone. Abbiamo pochi frangenti di minuti per costruire una fiducia, per trasmettere un messaggio, per trasmettere un'empatia. E la vendita non fa sconti a nessuno, ragazzi, non dà nessuna concessione e concessione, sostanzialmente, di tempo e di ampliamento temporale, perché tutto si svolge in pochi istanti. L'approccio è una cosa fondamentale, per cui, anche, diciamo, cercare di seguitarlo con una presentazione professionale della vostra persona, sicuramente, non soltanto darà un'immagine importante a voi, ma lo darà, darà un'immagine importante anche al vostro prodotto e al vostro servizio, perché è un'associazione che facciamo a livello istintivo sempre, ragazzi. Quindi, mi raccomando, nel senso, cercate sempre di essere nel vostro meglio, nella vostra presentazione. Certo, non sto qui a parlare che dovete comprare la borsa di Gucci e il profumo di Chanel, il Ferrarino, cioè ci mancherebbe. Magari quella è più una visione, ci sono dei brand che effettivamente fanno questo tipo di analisi per trasmettere l'idea del lusso al cliente. Va bene, ci può stare, quindi, del tipo, se compri, anche tu avere la Ferrari. Però magari là ne parliamo in un'altra puntata, perché potrebbe essere un dibattito interessante. No, noi qui siamo democratici, alla vendita con Simone aiutiamo tutti e quindi dobbiamo dare un aiuto generale. E l'aiuto generale, il consiglio generale che possiamo dare è, mi raccomando, siate sempre al meglio della vostra presentazione, sia come cura della vostra persona, la vostra presentazione, come dicevo, la vostra loquacità, il vostro intelletto. Insomma, siate sempre al meglio di voi stessi, come buon proposito tipo di Capodanno, però, in questo caso, però, va seguito seriamente. Perché, ripeto, date una buonissima immagine e l'immagine professionale che date la trasmettete al vostro prodotto e al vostro servizio, oltre che a dare importanza anche all'incontro stesso, perché un cliente si sentirà più importante se voi avrete l'attenzione di venire a un appuntamento curati o comunque ben presentati. Insomma, immaginatevi la scena, voi state lì e aspettate un venditore, arriva uno tutto strappato con la cannottiera famosa della domenica e il sugo di pomodoro. Cioè, ragazzi, con tutto il bene, poi c'è chi non si fa condizionare ben venga, però è normale che arrivi un approccio. Quindi, mi raccomando, ragazzi, è una cosa fondamentale perché in vendita l'abito lo fa il monaco. Non diciamo, non diciamo, siamo, siamo seri, siamo non, diciamo, come si suol dire, retorici. Comunque, dai, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Con questo piccolo consiglio io vi do appuntamento alla prossima puntata, ma prima la mia personale, insomma, personale, la nostra marchettatina. Ragazzi, mi raccomando, dato che siete tanto bravi, tanto affezionati, seguitemi su Instagram, la vendita con Simone, mi trovate proprio con questo nome, cioè non vi potete sbagliare, brandizzato. E, mi raccomando, seguite anche la nostra Angela con il profilo Curatolos perché ricarica on demand i pezzi e le parti migliori delle nostre meravigliose puntate di radioterapia. Ma se tutto questo non bastasse, ragazzi, mi rovino come si suol dire. Mi raccomando, se sei un professionista che ha bisogno di un supporto, di un aiuto per poter crescere nelle proprie trattative, se hai difficoltà di vendita, difficoltà a chiudere delle trattative, delle operazioni commerciali, scrivete, ragazzi, senza paura, senza remora, qui alla redazione di radioterapia, per fissare una call conoscitiva gratuita come medesimo, perché io di professione faccio anche questo. Aiuto voi a migliorare nel vostro lavoro. La mia soddisfazione è questa, il mio più grande premio. Per cui scrivete alla redazione, mi raccomando, così ci conosciamo e vediamo qual è il problema per poterlo risolvere al meglio. Bene, finito ciò, ragazzi, come detto, appuntamento alla prossima puntata dove sarò anche di presenza e parleremo di un argomento molto interessante. Lo dico, non lo dico? Facciamo spoilerino? Ebbene, settimana prossima, ragazzi, parleremo dell'imbarazzo della vendita, perché c'è chi si imbarazza. Vi direte che vuol dire? Eh, dovete seguirci. Ciao ragazzi!